Un viaggio esperienziale aperto a tutti nelle Ande peruviane e boliviane. Nel corso di questo viaggio contatteremo la memoria vivente e la conoscenza delle antiche ed attuali popolazioni andine attraverso incontri e cerimonie con Vilma Pinedo, appartenente ad un lignaggio di Pacos, i sacerdoti andini, che si trasmettono la saggezza dei curanderos Chechua da generazioni. Sperimenteremo pratiche energetiche e rituali con Celso e Cosimo e conosceremo la simbologia archetipica della cultura andina, integrandola nella nostra visione e nella percezione della nostra coscienza. Viaggeremo nei luoghi di potere dell'impero Inca e visiteremo paesaggi di straordinaria intensità e bellezza, attraverso i quali sperimenteremo altri stati e stadi di coscienza e di relazione con la natura e con la madre terra. Il programma indicativo prevede queste tappe Vi aspettiamo! Buona I miei ojos salen los colores del universo, que dimostro, no, no. Esos colores son el alimento, para la existenza, que somos todos. No, no, no. De tu voz salen los sonidos del universo, que dimostro, no. Y esos sonidos son el alimento, para la existenza, que somos todos. No, no. 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 No, no.